che fino a quel momento era stato l'inno del Regno d'Italia Andiamo da Chiara Con un messaggio su una videocastetta Muore Di Parpo Eniere e stava lavorando su un radar acceso e improvvisamente Credete di fare una pausa? Eh sì, ci vorrebbe una merenda sana, semplice e gustosa Eccoti servita, mele Valvenosta Belle da vedere, buone da mangiare La provo subito Il sapore dolce e aromatico della Golden Delicious è davvero unico Come la sua faccetta rossa tipica delle mele di montagna Ha davvero un colore intenso e Senti che profumo, deve avere un segreto Il segreto è che le mele Valvenosta Eccoci qua amici, bentornati all'eredità Benny, di cosa parliamo qui stasera? Stasera parliamo di Walt Disney Ah, grandissimo Ci piace questo argomento Beh, ne ha fatti eh, di film e di personaggi in grande Walt Disney Ma quale, tra i suoi film, era il preferito di Walt Disney? La spada nella roccia Lillia e il vagabondo Il libro della giungla Fantasia Bambi La bella addormentata nel bosco Pinocchio Cenerentola Biancaneve e Sette Nani Ne hai visti tutti, li conosci tutti Poi mi è da aver giocato con noi Grazie, mi sono divertito tantissimo Grazie Ciao Duolo Duolo Grazie a tutti Mario Messina da Airola Benevento Eccolo qua Mario come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Ah proprio sicuro, sicuro 1, 2, 3, 4 Serena, serena, di cosa parliamo? Questa sera parliamo di Gabriele D'Annunzio Allora, nel complesso del vittoriale, casa di D'Annunzio Quale stanza viene anche detta dei sogni pu? Il campione si chiama Antonio Benevenga di Contursi Terme, provincia di Salerno Eccolo qua Antonio Ciao Carlo Come va? Bene 1, 2, 3, 4 Eccoci Di cosa parliamo? Parliamo di onorificenze Allora, quale di questi personaggi della televisione non ha ricevuto onorificenze dalla Repubblica Italiana? Fabrizio Frizzi Carlo Conti Maurizio Costanzo Paolo Bonolis Renzo Arbore Pippo Baudo Piero Angela Giancarlo Magalli Antonio Lubrano Eh beh 1, 2, 3, 4 Guarda! Mi hanno portato il buccellato gli amici di Lucca! Il buccellato! Che meraviglia! Poi lo mangiamo, buccellerò, lo tengo io Gentile Voi non mi fido Allora, grazie agli amici di Lucca in studio che mi hanno portato il mitico buccellato E poi bisogna salutare una signora che sta in Scozza Si chiama Marina Bravo, eh Invece la signora che me l'ha portato è Maria Rosa Brava, brava, Maria Rosa Buccellato, mai portato Di cosa parliamo oggi? Questa sera parliamo di film western Uno, due, tre, quattro Di cosa parliamo? Parliamo di divinità egipcie Allora, quale divinità dell'antico Egitto aveva l'aspetto di uno scarabeo?